E' una visita istituzionale quella dell'ambasciatore della Corea qui in Abruzzo, in provincia di Teramo e anche a Pescara accompagnato dal senatore Antonio Razzi. Ambasciatore, lei oggi ha visitato un'azienda che produce mobili in provincia di Teramo e poi è andato a seguire la partita del Pescara. Sì, è vero perché per me è molto grande interesse che oggi ho fatto, anche per me è un grande onore con il senatore Razzi visitare la regione Abruzzo. E con lei ha visitato questa fabbrica di mobili perché volete intraprendere dei rapporti tra la Corea e l'Italia anche a livello commerciale? Ci pensiamo adesso perché secondo me ci sono la possibilità di organizzare qualche cooperazione fra le nostre imprese con le imprese italiane, specialmente in questo campo di mobili. Lei poi è un appassionato di calcio. Oggi il Pescara e domani addirittura va a Verona a vedere Chievo Genoa, è vero? Sì, questo è vero perché sono invitato dal senatore Razzi, ma sono molto curioso perché partecipare a una partita a livello molto alto come italiano per me è una grande occasione. In quell'occasione appunto incontrerà il presidente del Chievo Verona Campedelli, perché c'è anche questo tipo di rapporto con i ragazzi della Corea del Nord che potrebbero andare oltre che a Perugia, dove già si trovano anche al Chievo? Sì, però io pensavo che lei ha ragione perché noi abbiamo grande interesse da imparare il calcio, nel campo del calcio. E poi voi della Corea ci avete sempre battuto a noi italiani? No, adesso no, perché noi dobbiamo imparare, perché noi siamo scolari, non studenti. Allora noi dobbiamo imparare dagli italiani, dagli studenti italiani.